Ecco bella ragazzi con un altro video con Super WTF Game Guardate la prima missione di Black Ops 2 Credo! Go, Chi! C'è la grande missione di Black Ops 2 Credo! Credo! Tala? Can cha! Tala? Tala! Tala! wow 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 super vi uccide i ripensali che figata oh oh usa quel uccide mitragliatore il più bello ecco bravo non ti far uccidere sono tutti la dietro quelle rocce ci sono quelli lì figli di puttana che sparano con il mortaio se ti fai beccare da quello rischi di morire uccidili tutti ma guarda ma vedete che figata merda no sti vietnamiti di merda non te la lanciare sui piedi vecchio grandi abbiamo finito i mortai ora possiamo usare l'aereo penso per uccidere alcuni richiede il supporto aereo per distruggere i carri ok uso soltanto raggi che facciamo prima grande no non puoi salire devi salire solo dopo quando dice facciamo l'ultima carica no ah ma sono i bersagli what the fuck gay oh no oh merda uno un mortaio per una postura numero ora distruggiamo un altro po' di bei carriermac di merda e ora con l'ultima carica vai che son deboli eh si sono ancora un problema ma noi lo facciamo diventare nullo sto problema perchè li uccideremo tutti questi figli di puttana sti vietnamiti sti vietnamiti che figata che figata sta missione ragazzi bisogna andare sulla jeep meson dai su è tuo questo devo andare alla jeep oh devi andare dai vecchio è il tuo non lo uccidere sono deboli facciamoli fuori dai che è l'ultima carica adesso li facciamo tutti fuori perchè sono deboli lì in fondo li vuoi uccidere come lo spartano uccidiamoli tutti figli di puttana tu mi uccidi un uomo io te ne uccido cinquantamila ti è panculo no è già nostra e lo dico anch'io siiii ma guarda che bella vittoria ragazzi adesso arriva il nostro bel elicotterino tutti uccisi tutti uccisi amico giunto dal cielo e li ucciso tutti uomini e vieni come tutti noi dov'è Wut l'NBLA non è ancora scompito sarà un salvataggio rischioso ragazze dov'è siiii bella ragazzi spero che questa prima missione di Black Ops 2 e bambini vi sia piaciuta molto mettetemi un mi piace e iscrivetevi al nostro canale grazie e a tutti